Credo nelle cose belle, fatte bene, nell'eleganza sofisticata e nelle materie preziose. TODS è una conferma di eccellenza italiana, dalla scelta delle pelli, alla cura dei dettagli, alla creatività delle mani uniche. Innovare per me significa libertà creativa, mantenendo la memoria di ciò che è stato, evitando ogni tipo di nostalgia. Per TODS ho creato un incontro tra cool metropolitano e italianità artigianale. Il tocco manuale e la cura delle finiture sono veramente essenziali, danno carattere e identità. Ho racchiuso l'Italian Style nei contrasti di pelle e velluto, nella rilettura del mocassino TODS, nel gioco di maschile e femminile. Amo le linee precise, i capi conici e poi il particolare inatteso, che stravolge tutto.